Un incidente frontale tra due auto oggi alle 13.45 in via Fornase Barco in crocio SP11 via Castello a Poiana Maggiore. Tre persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati dall'Onigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando cesoi e divaricatori idraulici due donne da una vettura e dall'altra un uomo. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. La polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.